Il 9 luglio prossimo si terrà la conferenza di servizi presso la regione Lazio per decidere se autorizzare o meno l'apertura di un impianto di 300.000 tonnellate all'anno di rifiuti nel territorio di Patrica. Nell'istruttoria sono stati già espressi pareri, alcuni positivi, in base alla collocazione del sito in un'area a destinazione industriale. Dura però la presa di posizione del sindaco del paese Lepino, Lucio Fiordalisio, che chiede la chiusura della Valle del Sacco. È la questione centrale evidenziata, tra l'altro, nel documento presentato alla direzione provinciale del Partito Democratico, di cui lui è esponente. Il partito non può restare silente dinanzi alla problematica ambientale, ha dichiarato il primo cittadino. È il momento di raggruppare le forze e di mettere in campo tutte le energie possibili per evitare il collasso dei nostri territori. Fiordalisio propone la stesura di un provvedimento interdittivo, un disegno di legge, che sospenda l'invasione di nuovi impianti che trattano i rifiuti e chiede di coinvolgere tutti gli organi statutari del Partito Democratico. Con la stessa vemenza con cui sono stati affrontati alcuni temi, quali i diritti civili o il tema dei migranti, mi aspetto che ognuno faccia la sua parte rispetto alla Valle del Sacco, ha esordito. Non c'è più nulla da concedere. La situazione è emergenziale, pertanto l'unica via è il risanamento. E invece, dice Fiordalisio, c'è una pericolosa direzione contraria, e cioè che la bonifica è ferma e i tentativi di realizzare impianti impattanti sono invece all'ordine del giorno. Sul piede di guerra anche il Comitato La Rinascita, che lamenta il mancato coinvolgimento nella conferenza dei servizi. Il solo pensare, dicono, che sul territorio di Patrica, oggetto di indagini da parte della magistratura, si possano rilasciare autorizzazioni per impianti di trattamento rifiuti, è da folli. Ma questa follia può diventare realtà, grazie ad una politica cieca che non guarda mai le cose con gli occhi dei cittadini. Coloro che abitano nelle vicinanze, dice l'associazione ambientalista, hanno costruito prima di questi impianti le proprie case e non le proprie tombe.